Ben trovati da TG della mobilità, ultima tappa domenica a Roma per il Giro d'Italia edizione 2023, la Corsa Rosa si concluderà ai Fori Imperiali, un evento sportivo che richiede un piano per la viabilità considerando che il circuito compiuto dai corridori per 5 volte sarà di circa 17 km con partenza dall'Euro e passaggio a Ostia, Casal Palocco e poi rientro nell'area centrale, già da sabato in vista del Giro scatteranno le chiusure in Piazza del Popolo, su Viale D'Annunzio e in Via dei Fori Imperiali, domenica chiusure anche nel quartiere Euro, comprese le carreggiate centrali della Colombo, limitazioni al traffico infine nell'area del Colosseo e delle Termi di Caracalla. È tutto dal TG della mobilità.